Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike 94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo Football Manager 2017 con il nostro mitico Chievo e oggi finalmente è uscito ufficialmente il gioco completo appunto di Football Manager 2017 Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti chi l'ha già acquistato, chi già aveva la beta e soprattutto con che squadra volete iniziare la vostra nuova carriera Sono molto curioso, sono anche molto curioso di vedere i movimenti di mercato, cosa fate, anche perché poi fra un paio di mesi inizieremo sicuramente la serie e mostriamo le vostre carriere Detto ciò cosa andremo a vedere in questo video? In primis la partita con l'Odinese e poi andremo a fare l'ultimo riepilogo di mercato per vedere appunto se si può ancora lavorare su questa rosa e soprattutto anche per vedere gli ultimi acquisti e le ultime cessioni Detto ciò quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere la partita con l'Odinese perché il discorso del mercato appunto lo vorrei fare dopo Anche se la presenza in panchina di Etemai già vi farà capire qualche cosina Comunque giochiamo con Sorrentino, Costant, Velasquez, Benasio, Peruzzi, Djokovic, De Guzman, Evandro, Rodriguez, Birsa e Claro Le istruzioni le ho leggermente cambiate, ho messo pressing talvolta e come alcuni di voi mi hanno consigliato vediamo un po' come va e se funziona meglio Oggi proverò a commentare la partita anche se non so proprio ancora al massimo della forma però ugualmente vi farò dettagli appunto per le parti vuote insomma Calcio d'angolo, c'è Birsa, la cross al centro, De Guzman, minchia ragazzi, De Guzman veramente sta facendo un ottimo inizio di campionato Ma anche aveva fatto già un ottimo pre-campionato, giocatore veramente molto molto interessante che stavamo per mandare indietro Ma alla fine non l'abbiamo manco potuto fare quindi da un lato ci è anche andato bene Intanto ancora calcio d'angolo da parte di Birsa ma Ludinese si sta difendendo abbastanza bene, 14 minuti abbastanza noiosi dove appunto non ci sono state grandissime azioni Intanto attacca Ludinese con Cicciolodi, cross al centro, c'è Angela, paratona di Sorrentino, dagli è così, bravissimo Ancora Ludinese che attacca con Cicciolodi ancora da calcio d'angolo, cross al centro e c'è il gol di Adnan Sorrentino qui non poteva fare nulla, bello lo stacco di testa e Cicciolodi in sacca, o meglio Cicciolodi fa l'assist e Alino Adnan in sacca Brutto primo tempo, ammetto non mi è piaciuto molto quello che abbiamo fatto, poi Ludinese ha anche trovato il gol all'ultimo Quindi assolutamente dobbiamo rifarci in questo secondo tempo Djokovic, la passa da Evandro, De Guzman, De Guzman tiene palla, c'è ancora Evandro, la passa indietro per Venasio Ancora Velasquez, c'è De Guzman per Evandro, Evandro ancora tiene palla, la passa a Birsino, Birsino sulla destra La crossa per Claro che la passa a Rodriguez Uno pari, grandissimo Cristian, bello l'assist anche di Claro, bravi così ragazzi Però adesso cerchiamo di fare il 2-1, bella l'azione, Birsa come vedete riesce anche a crossare bene con il destro Claro, bello il pallone per Rodriguez che la insacca, dagli così ragazzi, complimenti Rischia un po', metto Castro, Poglie e Agrà e soprattutto metto offensiva perché vorrei provare a arrivare al 2-1 Infatti subito proviamo ad attaccare con Castro, Castro che tiene palla, la passa dall'altra parte ad Agrà Agrà al centro ci dovrebbe essere Caro, infatti c'è André Claro, grandissimo 2-1 Grandi ragazzi, complimenti, appena ho messo offensiva subito hanno capito come attaccare, dove attaccare E' arrivato il gol del 2-1, dagli ragazzi, complimenti, bello il gol, primo gol ufficiale di Claro E mi fa veramente molto molto piacere, però adesso difendiamoci Finisce qui la partita, una buona prestazione, il primo tempo non è stato dei migliori Però il secondo invece mi è piaciuto molto molto di più Agrà si è dimostrato un buon sostituto per Birsa Claro, si è dimostrato un attaccante veramente molto completo sia come Goleador che come Assistman E Cristian Rodriguez, diciamo che le prime amichevoli non mi è piaciuto tantissimo Però poi si è riscattato e si sta riscattando alla grande Vedete comunque un Chievo in predominio assoluto della partita con un 62% di possesso palla 23 tiri e 9 in porta, quindi veramente tanta tanta roba questo Chievo Per un attimo mi è venuto un infarto, ho letto Sorrentino Infortunato Ho detto porca miseria siamo fottuti Poi invece ho letto per fortuna solo due giorni, quindi meno male raga Perché se non sarebbe stata una tragedia sicuramente potremmo ancora intervenire sul mercato Però sarebbe stato un bel problemuccio Direi che è arrivata l'ora di parlare di mercato Ci sono state un paio di operazioni che devono essere ancora ufficializzate E proprio per questo ne voglio parlare oggi anche per vedere voi cosa ne pensate L'unico acquisto ufficiale è questo giocatore che si chiama Tior Un giocatore che può sembrare scarso e effettivamente adesso come adesso non può di certo fare il titolare Però ragazzi è un 4 stelle abilità potenziale Quindi diciamo che è un Wonder Kids e soprattutto è gratuito Infatti in questi giorni che sto cercando alcuni giovani interessanti sia per appunto il Chievo Ma anche per mia carriere così off screen o anche per fare determinati video qui sul canale Mi sono imbattuto su questo giovinastro Veramente molto molto valido come abilità potenziale E soprattutto che si prende a zero Infatti quando l'ho visto ho detto minchia lo devo prendere subito Perché comunque è un ingaggio relativamente basso Circa 150.000 euro Appunto era a parametro zero quindi assolutamente va preso Ragazzi ve lo consiglio perché secondo me potrebbe diventare un buon giocatore Già ha una buona velocità, una buona accelerazione Ha già qualità tecniche come laterali valide Controllo parla, cross dribbling Quindi ve lo consiglio assolutamente Parlando di cose leggermente più importanti c'è la questione ed è mai Alcuni di voi mi hanno consigliato di tenerlo Molti di voi mi hanno consigliato di mandarlo via E io ammetto che capisco entrambe le versioni La prima perché comunque ed è mai un giocatore veramente molto molto importante Per questo Chievo È un incontrista che è perfetto per il nostro centrocampo Anche se a me mi interesserebbe di più un mediano E quindi perderlo, venderlo così sarebbe un peccato Dall'altro come già vi ho detto nello scorso video Sarebbe ugualmente un peccato perderlo a parametro zero Senza farci manco un soldo visto che lui chiede 2 milioni Per il rinnovo del contratto Anche aspettare e sperare che abbassi le sue pretese Non è secondo me una mossa molto molto saggia Perché io spero che appunto il nostro Chievo faccia bene Quindi se i giocatori giocano bene e fanno bene in un determinato campionato Ovviamente le loro pretese non scendono ma aumentano Quindi invece di 2 milioni ce ne può chiedere anche 2,5 Proprio per questo ragazzi io ho provato a metterlo in vendita Mi è arrivata solo l'offerta dell'Eister a 4 milioni e 3 Io per il momento ho accettato ovviamente poi posso anche rifiutarla Però raga lo so che non è tantissimo Alcuni di voi mi hanno consigliato provare a metterlo a 6 Ovviamente anch'io l'avrei voluto vendere a 6 milioni Ma purtroppo con 6 milioni non mi arrivavano proprie offerte Mettendola a 5 mi arrivava la vasta offerta di 4 milioni e 3 Che per il momento ho accettato insomma poi mi baserò un po' anche sui vostri consigli Però ragazzi ripeto preferisco farmi questi 4 milioni e 3 subito che 0 poi domani Alla fine se lo dobbiamo perdere è meglio perderlo con 4 milioni e 3 che con 0 Anche perché bene o male c'è un sostituto low cost a 0 Molto molto valido Lo so che anche su di lui alcuni mi hanno detto non prenderlo è abbastanza scarso Però ragazzi voi dovete sempre considerare il gioco non la realtà Perché ovvio adesso Montari ha 32 anni diciamo che è un periodo calante nella realtà Nel gioco raga è un mostro C'è contrasti, marcatura, è un ottimo finalizzatore Perché c'ha 11 finalizzazioni e tiri da lontano 15 Quindi potrebbe anche essere importante come finalizzatore da lontano Un'ottima aggressività ed è un parametro che manca alla nostra squadra E poi c'è il carisma, vabbè coraggio, decisioni, determinazione, gioco di squadra, impegno Ha ottime qualità fisiche Per il momento io ho offerto un contratto basso Bene o male prende quanto e temai soprattutto un biennale Quindi fra due anni ne avrà 34 Arrivederci e grazie Ma secondo me lui potrebbe anche fare questo anno così Al top e poi lo cediamo Perché sicuramente avrà un po' di calo Però almeno un anno ad altissimi livelli li può fare Il giocatore è veramente tanto tanto valido E secondo me è il miglior giocatore che possiamo prendere Non tanto perché lo prendiamo a zero anche Ovviamente è una cosa in più Ma alla fine anche fra i giocatori che potremmo pagare Non c'è un giocatore così valido Perché non fidatevi Sono stato due giorni a cercare un'alternativa e temai E alla fine delle cose anche sborsando soldi Anche parecchi Montari rimane la scelta migliore Ovviamente fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questi cambi Ovviamente ragazzi con un commento ragionevole Non a cazzo Quello che volevo dirvi l'altro giorno Che io parlavo di gente un po' idiota È perché sta capitando alcune volte Che gente per dare dei consigli A volte tende ad insultare Ad essere veramente poco educata E allora a me diciamo La mancanza di educazione è la cosa che più odio Soprattutto gli insulti gratuiti È una cosa che io proprio odio Quindi io accetto tutti i tipi di consiglio Anzi io lo dico sempre Amo imparare da voi Imparare cose nuove Su Football Manager e sul calcio in generale È la cosa che più mi piace Perché sennò alla fine il canale non avrebbe senso Però consigli e opinioni Dette in maniera educata Rispettosa Sia verso di me ma anche verso gli altri Anche perché ovviamente la critica ci sta Io l'accetto Anzi la apprezzo Perché capisco che sto sbagliando in qualche punto E devo migliorare Così come è anche successo con la tattica Però insomma c'è modo e modo per dire determinate cose Detto questo apro e chiudo questa parentesi Cosa voglio fare E poi andiamo anche a chiudere il video Voglio fare un piccolo riepilogo della rosa Giusto per andare a vedere se c'è qualcosa da migliorare Ovviamente lo faccio in live qui nel video Proprio perché voglio sapere se anche voi concordate Con questo mio ragionamento Oppure se avete altre idee Quindi mi raccomando a bomba con i commenti Allora ragazzi importa io dire che siamo messi più che bene Per fortuna Sorrentino non si è fatto male Perché sennò saremmo dovuti andare di corsa al mercato E quindi va più che bene Sorrentino, Bressan e Audero Audero l'ho messo come mi avete anche consigliato Ad allenare, a giocare con l'Under 20 Perché comunque per il momento abbiamo Bressan E avremo in pratica poi due portieri che non fanno niente Almeno Adero gioca con le giovanili E le Bressan farà il vice quando appunto ci sarà l'occasione Spero mai Per quanto riguarda la difesa centrale Ne abbiamo quattro più il jolly sardo C'è, vabbè, Venasi e Velasquez sono i titolari Tavares è la prima riserva E c'è Spolli Spolli io volevo venderlo Non ha mai ricevuto offerte Quindi ho deciso di tenerlo anche perché va pure in scadenza E quindi semmai lo teniamo quest'anno Poi se ne va in scadenza e ne prendiamo un altro O a gennaio a parametro zero o comunque poi a luglio Un difensore di certo molto più valido Forse in difesa centrale è l'unico reparto dove non abbiamo proprio il giovinastro Però alla fine non voglio prendere altri giocatori Perché se no poi andremo a fare una rosa troppo lunga E non avrebbe senso Visto che noi siamo solo in Coppa Italia e in Serie A Prenderemo dei giocatori che poi non giocano praticamente mai Come terzini abbiamo Gino Peruzzi e diciamo Filippo Costa e Sardo sulla destra Filippo Costa più che altro perché lo sto allenando a giocare sulla destra E a sinistra abbiamo Costante e Tonilato Quindi bene o male in difesa siamo messi bene Perché abbiamo 4 terzini, 4 difensori centrali E un Jolly che può giocare sia come terzino che come appunto difensore centrale Mancherebbe il panchinaro a destra Però in teoria abbiamo 3 terzini sinistri quindi Costa se mai si adatta a destra Perché se no ragazzi dovremmo mandare via Costa e prenderne un altro Però abbiamo detto che su Costa vogliamo un po' puntare Quindi io almeno questi 6 mesi lo vorrei tenere Fatemi sapere voi che ne pensate Potremmo anche mandarlo in prestito e prendere un altro terzino a destra Fatemi un po' sapere A centrocampo invece ragazzi il discorso è diverso Perché noi stiamo cercando un centrocampista Jolly in più E ovviamente in questo caso anche un sostituto di Etemai Se se ne va Etemai in teoria stiamo prendendo Montari E come Jolly c'era o l'alternativa Ronaldinho Che appunto sto ancora aspettando che abbassi le sue pretese Ma io in teoria ho portato in prima squadra questo Bastien Perché comunque prende un bel po' di ingaggio Quindi tenerlo così a non far nulla mi scoccia Nessuno lo vuole in prestito E a parte tutto ciò è anche un bel giocatore È un giovane di 19 anni Ha un'ottima abilità potenziale Già comunque può fare l'ultima alternativa di centrocampo Secondo me è molto valido Può veramente fare di tutto Centrocampo, il laterale Può fare anche il mediano Quindi secondo me come Jolly è perfetto E poi insomma abbiamo per ogni ruolo due giocatori Djokovic, Etemaio, Montari, Castro ed Evandro De Guzman e Poglie Quindi e poi vabbè Bastien appunto come Jolly Quindi bene o male siamo messi alla grande al centrocampo Come laterale abbiamo Cristian Rodriguez e Lamà Birsa e Agrà E poi anche Parigini come ultima alternativa E poi vabbè in attacco abbiamo Claro, Pellissier e Inglese Quindi secondo me numericamente siamo più che messi bene E secondo me non c'è, non ci sono altre cose da fare Ripeto fatemi sapere voi Soprattutto per la faccenda terzino destro Perché poi per il resto secondo me Sia numericamente che qualitativamente Siamo messi più che bene Quindi mi raccomando a bomba nei commenti Fatemi sapere voi come la pensate Detto ciò chiudo il video perché sennò muoio E niente ragazzi come sempre mettete un bel like Commentate a bomba Ripeto fatemi sapere anche le squadre che avete preso Con questo Football Manager 2017 Infatti come vedete non c'è anche più la scritta beta E niente quindi commentate Mettete un bel like Condividete a manetta E come sempre un saluto a Mike94 E ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi